San Francesco, con la sua personale testimonianza di vita, ha dato attuazione al messaggio più rivoluzionario che sia stato mai concepito dall'antichità ai nostri giorni. Gli ultimi diventano i primi. È un principio dal valore universale. È un principio dotato di una incredibile forza evocativa, che dovrebbe guidare tutti coloro che amministrano la res pubblica, dovrebbe orientare le loro scelte e le loro azioni verso il bene comune. Non ci siamo limitati ad approvare un mero documento contabile, in cui abbiamo inserito numeri e calcoli algebrici. Abbiamo delineato un programma di riforme avendo cura dei bisogni delle persone. Pensando a loro abbiamo progettato misure volte a garantire equità e sviluppo sociale. Pensando alle persone più svantaggiate, abbiamo adottato una riforma di cui sono particolarmente orgoglioso, il reddito di cittadinanza. Non offriamo un sussidio assistenziale. Facciamo scoccare la scintilla che consentirà di rendere pienamente partecipi della nostra comunità politica, economica, sociale, tante persone che in questo momento ne rimangono escluse.